Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. Una vasta depressione artica si muove verso l'Europa settentrionale, nel suo moto da ovest verso est riuscirà a interagire con il Mediterraneo centro-occidentale, richiamando correnti miti e umidi sull'Italia. Avremo un temporaneo aumento dei valori termici seguiti da un brusco calo delle temperature nel weekend. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 23 febbraio. Tempo per lo più soleggiato su entrambe le regioni. Avremo addensamenti più consistenti sull'Appennino Lucano, ma senza fenomeni. I cieli dal pomeriggio sera risulteranno meno limpidi per via di nubi alte stratificate, richiamate dai venti sud-occidentali. Le temperature, come possiamo notare dalla grafica, risulteranno in rialzo di 2-3 gradi, sia nelle massime che nelle minime. Venti rinforzo dal pomeriggio dai quadranti meridionali, mari da poco mossi a mossi a partire dal pomeriggio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ricordiamo il nostro telespettatore Pietro Carnevale per questo incredibile tramonto di fuoco a rodiga organico che è riuscito ad accendere anche la superficie del mare. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.